L'Aggiunta regionale ha approvato la delibera per la riconversione dell'impianto di Colleferro, un progetto che favorirà la costruzione di impianti altamente tecnologici, supererà in breve tempo il sistema della termovalorizzazione dei rifiuti. A dare la notizia il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che aggiunge «Ciò che vogliamo fortemente, anche grazie alla collaborazione di tutti i comuni della nostra regione, è consentire al Lazio di essere all'avanguardia nel sistema dei rifiuti, un target che possiamo raggiungere proprio spegnendo finalmente il termovalorizzatore di Colleferro, iniziando la sua riconversione e continuando a investire in genti risorse per la raccolta differenziata. Il presidio industriale verrà realizzato sempre a Colleferro, dove sarà avviata la dismissione dell'attuale struttura. Questo innovativo progetto sarà al centro del nuovo piano rifiuti della Regione e consentirà di risolvere molte criticità che affliggono il sistema dei rifiuti di Roma. Ora è fondamentale l'impegno e il senso di responsabilità di tutte le istituzioni, aggiunge Massimiliano Valeriani, assessore regionale al ciclo dei rifiuti. Il nuovo impianto verrà progettato da Lazio Ambiente e SPA in collaborazione con università e istituti di ricerca, mutuando le migliori esperienze già consolidate in diverse capitali europee, ma introducendo anche tecnologie di ultima generazione. Obiettivi strategici per la cessione delle azioni di Lazio Ambiente, detenute dalla Regione Lazio, saranno la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'equilibrio economico-finanziario della società, la protezione del know-how e degli asset industriali. In particolare attraverso la società Lazio Ambiente, la Regione punta a promuovere la realizzazione di un presidio industriale, dove verranno eseguiti processi di lavorazione per estrarre risorse dai rifiuti in uscita dai TMB, evitando, così, lo smaltimento in discarica o negli inceneritori. «È il colpo d'ala che ci voleva», dichiara l'ex assessore regionale ai rifiuti e capogruppo PD, Mauro Buschini, per smuovere l'area stagnante dell'inerzia di Roma ancora sommersa di rifiuti. «C'è lavoro per tutti e in primo luogo per Roma Capitale, che deve spingere la raccolta differenziata. La Regione continua a fare la sua parte e ora il piano regionale avrà un'impronta verde chiara e irreversibile. Il futuro comincia ora». Il futuro comincia ora.